Boni che me sta venire influenza, me pizzica la gola, mannaggia la puttana che mannaggia, domani chissà come me sveglio, se me sveglio, ciao, bello a tutti da me. Inter Cagliari ha appena segnato Ranocchia il quarto gol ragazzi miei, quindi credo che la partita sia bella che è andata, l'Inter passa ai quarti di finale di Coppa Italia, questo pomeriggio è passato in Napoli imponendosi 2-0 sul Perugia, 2-0 doppietta di insignia sul calcio di rigore, gli è mello che ha sbagliato un calcio di rigore o meglio gliel'ha parato Spina, la Lazio si è imposta senza troppi problemi, 4-0 sulla Cremonese, immobile che fa un altro gol, segna come se non ci fosse un domani. Domani ovviamente c'è stanno altre partite, c'è Atalanta-Fiorentina, la vincente tra Atalanta e Fiorentina se non sbaglio è avversaria proprio dell'Inter, poi c'è Milan-Spal, Genoa-Torino, Roma-Palma, Juve-Odinese, Coppa Italia chi più ne ha più ne metta. Vorrei analizzare rapidamente questa partita, primo tempo in cui l'Inter ha stradominato perché ha fatto 275 gol o meglio, ha fatto gol Lukaku dopo 20 secondi, è durato, meno Lukaku che non voglio far paragoni zozzi perché poi se no YouTube tanto sarà demonetizzato uguale sto video, quindi 20 secondi gol più veloce di quest'anno dell'Inter, butta dentro una palla in rete, ma Cagliari ripeto che nel primo tempo non è sceso in campo, non hanno fatto neanche un tiro in porta, poi Lukaku ne fa un altro, gli hanno pescato un pelo del culo in fuorigioco, perché io riguardandolo alle immagini, regà, dalle immagini non sembrava fuorigioco come mi è da ride, insomma sto colpo di testa, non mi ricordo su assist di chi mi pare di barella, vabbè insomma gli hanno una no collo per fuorigioco che se c'è sta è veramente una cosa impercettibile, se la tecnologia, se l'uomo Alvar ha tracciato le linee e la tecnologia dice che comunque stava leggermente al di là, evidentemente è così. Poi che cosa succede? Ah, Goldborg Cavalero, che poi ci mette sempre di mezzo, mezzo tacco, un piede Lukaku, assist di barella che ne ha fatti due quest'oggi, insomma sta palla che passa, Lukaku che tocca, sfiora quello che vi pare, Borca Valero arriva a rimorchio se butta dentro la porta e butta dentro pure la palla in rete. Nel secondo tempo Lukaku subito quarantanovesimo, appena rientrano sempre su assist di barella, butta dentro un'altra palla in rete, gran bel colpo di testa, sul primo gol mi sono dimenticato di dire che il Cagliari ha fatto una cazzata di quelle pazzesche, o meglio Oliva ha fatto una cazzata di quelle pazzesche, che ha garantito a Lukaku il gol dell'1-0, ma poi proprio Oliva si fa perdonare con un gran bel gol, con assist Decerri in colpo di tacco. Poco prima Nainggolan aveva colpito un palo sulla sua specialità. Il tiro da fuori, non c'è più niente da fare perché siamo all'ottantaseiesimo minuto e credo che la partita sia bella che andata. Da segnalare anche un bel esordio in Coppa Italia con l'Inter per Alexis Sanchez, che è ritornato dopo un infortunio, ha fatto un paio di panchine se non sbaglio, almeno due, e oggi ovviamente per fargli mettere minuti nelle gambe, nelle gambe, delle alli, ho detto che sto male, insomma vabbè l'ha fatto, a momenti ne fanno un altro, insomma ha giocato bene, diciamoci la verità, Alexis Sanchez sicuramente ha fatto una buona prestazione, poi è uscito e via dicendo. Il gol della Nocchia, appunto un grande professionista, diciamoci la verità ragazzi miei, perché è una persona secondo me speciale, è una persona d'oro, un professionista, io non ce la posso fare, ma domani come me sveglio, un professionista di quelli seri, e lo dico seriamente proprio perché credo in quel che sto dicendo. Io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questo Cagliari, perché questo cinque sconfitte consecutive, ma fino a cinque partite fa, diciamo sei, perché quella prima ancora l'aveva pareggiata, sembrava una squadra veramente inarrestabile, o poco ci mancava, e attualmente invece ragazzi si sono fatti prende a pallonate dall'Inter nel primo tempo, poi c'è stata una sorta di reazione col palo e il gol del 3 a 1, però veramente poca poca roba. Io non riesco a capire da cosa dipenda questa involuzione, cioè l'evoluzione e poi involuzione, cioè alti e bassi, alti e bassi. Vabbè, fatemi sapere la vostra nei commenti, ripeto, anche Napoli e Lazio si affronteranno tra l'altro ai quarti di finale, e mo' che ci penso, so Ottavio, so quarti di finale, che cazzo sto dire? Aspettate eh, allora Coppa Italia, so quarti di finale, perché so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, so Ottavio, quindi diventano quarti di finale, sto rimbambito adesso. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video, la partita non è ancora terminata, ma se ci sarà un gol in live non servirà, no, non in live, non servirà assolutamente a nulla, a che serve? Perché tanto sul punteggio 4 a 1 la partita ormai è bella cannata, e domani, domani se volete altri post partita per voi, Milan-Spal, c'è stata l'Atalanta-Fiorentina, posso fare altri video così aca, quello che volete. Buonanotte, mamma, sempre se sto bene domani, ciao.